Vi auguro una serena notte. Il messaggio di questa sera è re di terra, generoso, professionale, responsabile, pratico. Un periodo di successo accetta sicuro di te le opportunità che ti vengono offerte, il tocco di Remida. Questo è il momento di successo. I tuoi attuali progetti avranno un esito positivo. Potresti essere promosso o ricevere un aumento di stipendio. Le tue doti e le tue abilità faranno ottenere dei premi sia a te che agli altri. Accogli le opportunità che ti si offrono e confida nel fatto che ce la farai. Qualcuno dotato negli affari che è bravo nella gestione dei soldi e che può darti ottimi consigli. Una persona che ha avuto successo nel lavoro e che ora si gode le cose belle della vita. Professionale, generosa, responsabile, pratica, competente. Altri significati di questa carta sono il tocco di Remida, un imprenditore, datore di lavoro, sicurezza economica. Questo è il messaggio dalla Buonanotte.